Allora, se tu sei felice, tu non te ne accorgi, ma gli altri se ne accorgono che da te esce un fascino, esce qualche cosa di bello, se accorgono, anche i genitori, che tu sei geniale, ti inventi delle soluzioni, dei modi di andare agli altri, soprattutto i più bisognosi. Hai capito questo? Santa Chiara è la bellezza, ti faccio il pieno, dura sette anni, dopo devi rifare il pieno, però durante sette anni chiunque ti tocca, chiunque ci parla con te, chiunque sono irradiati, affascinati, e anche di te sicuramente diranno quello che hanno detto di Gesù. Benedetto quella mamma, benedetto quel papà. Hai capito? Devo narrarmi l'ara di quello che dicono anche di Francesco, gli hanno fatto in Assisi un monumento al genitore, ma non per loro, è il figlio che l'ha resi immortale, amabile, e li conservano nel tempo e nella memoria. Hai capito bene? Dunque, io ti faccio il pieno, perché ho recepito che questo ha proprio le caratteristiche, se non diventerete come bambini, non entrerete nel regno di Dio. Gesù Cristo ci dice a noi adulti che dobbiamo diventare semplici, ben, ben come sei tu. Ti accordo? Dunque, ti faccio il pieno. Dopo incomincio una fatica nella tua vita, perché quando verranno tutti vorranno felicità, perché sono che ti vanno, anche senza toccarti, vai di felicità. Sette tonnellate e mezzo di felicità, sette tonnellate e mezzo di impendenza. attenzione, eh? Ma che è una cosa seria. È una cosa seria, però l'ha fatta nella modalità giusta, il sorriso è ragionato. Tu devi avere qualche caratteristica speciale, perché il serbatoio, ho visto che quasi non è successo. Oggi ho trovato un bambino, perché più si è piccolo, più si è semplice, più si è quello che dice Gesù, e più ne ha sorte. Hai fatto un pieno oggi, mamma mia. Dunque, da oggi in poi tu devi solo pensare ad essere felice, però non puoi essere triste, non ti puoi arrabbiare. Ti si concedono solo cinque minuti di tristezza, cinque minuti di rabbia, perché gli altri, perché gli altri, devono venire, ti scuotono, dicono, oh, tu non puoi essere triste, capito? Ti devi rimettere subito, è come un aereo che vola e non può perdere cuore. Allora, dunque, questo è quello che è successo oggi, tu sei un uomo laureato in felicità e bellezza per ottenere il documento. Pensa che fortuna, ragazzi. Scherzi. Dunque, fra sette anni verrai a fare... Quando ti ritorni, se mi dicono che tu sei stato veramente felice, che ti sei speso sempre per farti felice gli altri, allora senti, senti che succede. Io non ti rifaccio il pieno, ma ti regalo l'antenna telescopica. Devi spiegare, sai quelle antenne che si stirano? Che le piri fuori, che le spiri. Eh, quelle si chiamate le antenne. Allora io, le antenne, ti aggancio direttamente al paradiso. E scelte felicità, felicità, felicità. Che tu non fai in tempo, gli dici, mamma, aspetta, non dire un uomo, non il caso aiuto, ma spandere tutta la felicità che c'ho qui perché ne è scesa tanta, tanta, tanta. Chiami la tua sorella, chiami il papà, gli amici. Non mi fate perdere tempo, che sto facendo una cosa importante, le persone hanno bisogno di queste cose. Hai capito? Poi, se vuoi fare una cosa sproporzionata, per farla funzionare alla grande, ma proprio scegliono tonnellate e tonnellate, devi aiutare l'antenna con il colore più bello che esiste in natura. Qual è? Il colore più bello che esiste in natura è qui, guarda. La fronte tua, quando hai preso il sole, diventa marrone. Per cui il colore più bello che esiste al mondo è il marrone. Se abbina l'antenna telescopica e il marrone, tu racconterai, tu ribarrai nei secoli dei secoli, tutti parleranno di te, di generazione in generazione. Sarà una cosa strepitosa. Adesso a questo bambino io gli devo dare la roba perché ci vuole il documento, ci vuole il documento, venite qua. Io non ce la faccio a condizionare. 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 Grazie a tutti.